Pian del Ciampolo 2006, Montevertine. Sapere aspettare è forse la nostra qualità migliore. Attesa, pazienza, indugi inseguiti e accarezzati con piccoli gesti. Parole smarrite alle quali il nostro vino non rinuncia. Doni ereditati da frutti che diventano albe e orientano notti. Luce ed ebbrezze che separano e cantano, fino a risvegliare emozioni altrimenti perdute. E per premiare questa categoria, cuore, carattere, simpatia, esplosiva come il suo Vesuvio, Tosca d'Aquino. The wine, the wine is... Miglior rapporto, qualità, prezzo. Attenzione, attenzione. Pian del Ciampolo 2006, Montevertine. Martino Manetti, Chiantigiano Doc, dallo scrigno dei vigneti di Radia. Un appassionato del San Giovese di razza, possiamo dire così? Sì, ecco qua il premio. Complimenti. Complimenti, complimenti. Allora, questo premio, il papà Sergio, l'avrebbe apprezzato? Miglior qualità, prezzo. Vino con miglior qualità, prezzo. Rapporto qualità, prezzo. Sì. Penso che sicuramente l'avrebbe apprezzato. Anzi, io sono infinitamente contento di questo perché vincere, diciamo, col nostro vino più semplice, più da tutti i giorni, ci riempie d'orgoglio perché è dalle cose semplici che nascono le cose grandi. Quindi io vorrei ringraziarlo proprio il mio padre perché senza di lui ora io non sarei via di ritriare questo premio. Vedo che sei emozionato, sei giovane, quindi bello vedere dei produttori giovani, produttori di vino. Grazie, grazie. Grazie. A Martino Manetti, prego. Ti chiedo di accomodare.